Parte la nuova amministrazione di Fogliano del Chiana. Nell'ultima tornata elettorale, Jacopo Franci, alla guida della lista Scelgo Fogliano, aveva raccolto oltre il 61% dei consensi e nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale ha comunicato ufficialmente i competenti della Giunta e le deleghe assegnate. Siamo molto contenti, soddisfatti, siamo felici della squadra che proponiamo. Riccardo Reali sarà il nuovo assessore alla cultura e al turismo, Elena Bigliazzi sarà l'assessore alle politiche sociali, alle pari opportunità, all'innovazione tecnologica e alla protezione civile. Gabriele Corei, che avrà anche la delega di vice sindaco, riavrà come lo scorso mandato le delega ai lavori pubblici e allo sport e sarà Chinoli, neossessore con le delega ad ambiente ed agricoltura. Inoltre ogni consigliere avrà una delega, il capogruppo del Consiglio Comunale sarà Francesco Seriacopi e il vice capogruppo sarà Paola Moretti. Quindi una squadra giovane, dinamica, abbiamo voglia di lavorare, non vediamo l'ora di iniziare e quindi un augurio di buon in bocca al lupo a tutto il Consiglio Comunale di Fogliano. Resteranno al primo cittadino le deleghe all'urbanistica, bilancio, personale, edilizia, attività produttive e scuola.